La Comolecco è la seconda linea ferroviaria più inaffidabile della Lombardia. Causa, ritardi e cancellazioni. A settembre l'indice minimo di qualità previsto dai contratti di servizio è rimasto ben lontano, 7,89% contro una soglia del 5%. A denunciare ancora una volta i problemi della tratta, il comitato pendolari. Comolecco dovrebbe far riflettere il fatto che risulti inaffidabile il servizio erogato su una linea di soli 42 km, con sole 23 corse al giorno, chiusa nei festivi e libera dal traffico merci. Ci aspettiamo dati negativi anche per ottobre e novembre. Quasi ogni settimana ci sono guasti. Quando non è la rete RFR avere problemi, allora si verifica un problema al treno. Tutto ciò si traduce in ritardi, cancellazioni e soppressioni, anche parziali, spiega il comitato. Che non ci risulta vengano considerate nel calcolo dell'indice di affidabilità. La percezione della qualità e dell'affidabilità del servizio non si può ridurre a una percentuale. I problemi causati ai viaggiatori non si possono sanare con un bonus per i soli abbonati. Continuano i pendolari. Quotidianamente sui treni salgono viaggiatori saltuari, studenti e lavoratori pendolari che perdono tempo e denaro a causa dei disservizi ferroviari. Alla luce di queste considerazioni, il comitato pendolari Comolecco parteciperà al presidio Cronici ritardi che si terrà venerdì 18 novembre alle 17.30 a Milano, in piazza città di Lombardia. Sarà l'occasione anche per consegnare alla giunta regionale le 30.000 firme raccolte con la petizione online I pendolari meritano un servizio ferroviario serio. Cronici ritardi che si può ridurre il servizio ferroviario